Non ho assistito a questa gara, però dai reso conto i giornalistici, evidentemente qualche decisione arbitrale non proprio giusta, ma questo non autorizza, è inaccettabile la reazione di parte di qualche esagitato, perché poi il prezzo lo paga la squadra, lo paga la società e oggi siamo nella situazione di dover vedere un incontro a porte chiuse ed eventualmente l'altro incontro, gara 5, in Camponeo. Questo non va bene, questo non è giustificabile e invito veramente questi ragazzi, i tifosi, a mantenere l'atteggiamento che hanno sempre mantenuto di grandissima correttezza. È stato un momento di follia individuale, da quello che ho capito, non collettiva, e questo già è una cosa importante, e quindi di avere un atteggiamento di, come è sempre stato nel basket, di grandissima partecipazione, vicinanza alla squadra. Venerdì l'Avelino si gioca praticamente tutto a Terni. Mi auguro che la squadra affronti la Ternana così come ha affrontato lo Spezia, con grande determinazione, voglia di conseguire un risultato utile. Sono convinto che anche il tecnico, che ho letto qualche direzione del tecnico, sta infondendo questo spirito alla squadra. Dobbiamo essere positivi, dobbiamo essere ottimisti, quindi essere tutti consapevoli, ma la squadra sente il calore della città intorno ai colori bianco-verdi, quindi dobbiamo pensare positivo. In questa stanza è cominciato il discorso sul nuovo stadio Partenio Lombardi, c'era Taccone, c'era Bodi, c'era lei. Che fine ha fatto? Secondo lei si farà mai questo nuovo stadio Partenio Lombardi oppure no? Molto dipende, secondo me, dalla eventualità, da due condizioni. La prima che più mi interessa è che Avellino resti in serie B, quindi svolga il proprio campionato nella cadetteria. L'altra condizione, ma questa non dipende né dall'amministrazione comunale né dalla Lega o da altre entità, dipende dalle intenzioni, se sono vere, da parte del Presidente Taccone di cedere il pacchetto azionario dell'OS Avellino ad altri che possono essere interessati. Questo vedremo nelle prossime settimane. Se accadrà, sono convinto che chiunque abbia interesse ad acquisire il pacchetto azionario dell'OS Avellino non potrà trascurare la possibilità che c'è e concreta di andare all'edificazione di un nuovo stadio.